Ben ritrovati, una piccola precisazione, mi hanno telefonato in studio e mi hanno chiesto qual è il motivo del fatto che io ho spiegato il canale di programmi all'interno di un sistema LTE. E' importante questo perché come abbiamo detto precedentemente all'accensione dei programmi dei segnali LTE se ci sono dei problemi naturalmente non si ripercuotono su determinati programmi, è probabile che ci sia un disturbo a livello generale, cioè dai canali 21 ai canali 60. Il canale è proprio canale, non programmi canali, di conseguenza si hanno dei problemi sui programmi. Ora quando l'utente finale dice non vedo il canale, non è che io non vedo il canale, non vedo il programma indipendentemente dal numero. Noi abbiamo portato un esempio, la differenza che c'è tra canale e programma, per cui specificatamente, così anche voi imparate una terminologia che quando vi trovate a confrontarvi con il tecnico, l'addetto ai lavori a casa vostra, magari lui rimane un po' così perplesso, dice però qualcuno, una preparazione di cultura non fa mai male. Per cui è il programma, io non vedo il programma, non vedo la DTV sul programma 90. Il tecnico dice è probabile che ci siano dei problemi sul canale 39, dovuto a tutta una serie di motivi. Ecco la spiegazione, ma è importante capire canale e programma. Ora, al di là di tutto, ci sono arrivate anche delle domande, perplessità di questi tipi di trasmissioni LTE, ad esempio, se io ricevo la TV con lo smartphone o il tablet in casa, sono lì tranquillamente, mia moglie guarda la TV, io ho il mio tablet nel mio studio che sto guardando, A livello di campo magnetico, visto che è tutto wifi, c'è qualche problema? Disturbo a livello di campo magnetico? Sicuramente sì, ma non mi è tenuto a sapere, non rientra nelle mie competenze, va al di là delle mie competenze tecniche e professionali, dato che non ci sono ancora stati degli studi precisi, è ancora tutto spento, per cui è probabile che ci siano dei problemi, ma al momento è ancora prematuro porsi questa domanda. La seconda è disturbi sui canali? Sì, è probabile che ci siano dei disturbi sui canali, come vengono eliminati? Lo vedremo dopo, questi tipi di disturbi. Sono da cambiare le antenne? Cioè da migliorare? Eventualmente, se ci sono questi disturbi, sono da cambiare le antenne? No, non c'è da fare nessun cambiamento radicale all'interno della ricezione, a meno che se l'impianto vostro ha ancora l'impronta a livello analogico. Questo sarebbe opportuno sostituirle, ma se avete già fatto l'adeguamento al passaggio dall'analogico al digitale, no, le antenne vanno bene quelle che ci sono. È meglio mettere le antenne di banda? Questo doveva essere un professionista, un tecnico. No, non importa mettere delle antenne di banda. Cosa sono le antenne di banda? Ricordate che ho detto prima, noi abbiamo due tipi di bande, UHF e UHF. Probabile non tanto le antenne di banda, ma antenne di canale. Cioè se io voglio prendere un preciso canale, vi ricordate il 39 di TV, senza avere disturbi con gli altri, sì, lo posso fare, però è molto oneroso. Noi abbiamo dal 21 al 69, ci sono andremo a mettere 10-12 antenne soltanto direttive, non ne vale la pena. Ecco, è un costo molto forte, che non ne vale la pena. Ci sono delle antenne terza e quarta banda, oppure delle larga banda che prendono tutta la banda UHF dal 21 al 60. Con un'antenna si è risolto il problema. Noi abbiamo due ripetitori in Emilia Romagna, Barbiano e Castelmaggiore, sono due ripetitori enormi. Chi è sotto Castelmaggiore prende Barbiano e chi è sotto Barbiano prende Castelmaggiore e viceversa. I filtri. Costano molto passare i filtri alle centrali? Costa molto. Sono filtri che variano dai 30 ai 40 euro. Dipende dalle marche, questi tipi di filtri che vanno inseriti all'interno delle centrali. Ricevere la TV sui tablet in casa aumenta l'irraggiamento? No, l'irraggiamento è sempre quello, una ricezione. Le potenze sono quelle, sono dettate dai gestori, per cui l'irraggiamento rimane quello. Se poi è legato da un campo magnetico, ecco quello è un altro aspetto che andrà sicuramente verificato. Qui ce ne sono tante altre, lo vedremo dopo. Specificatamente, non andate via, che faremo una prova pratica su eventuali problemi che possono nascere. A dopo la rubrica. Grazie. Cari amici, ben ritrovati. Con questo piccolo spazio di scienza portata di mano, ho scelto un video per voi oggi veramente significativo, molto importante, un messaggio che voglio mandare agli esperti e anche e soprattutto poco esperti, o quelli che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'elettricità. L'elettricità, fino agli albori del tempo, soprattutto è nostra amica. Noi non dobbiamo avere paura dell'elettricità, ce l'abbiamo dappertutto in casa, ci circonda. È più o meno un po' come il fuoco. Il fuoco è comunque il nostro amico. Come tutte le cose, scusate, come tutte le cose vanno prese con molta moderazione e sia il fuoco che l'elettricità sono elementi che vanno adoperati con profondo rispetto, perché se noi non rispettiamo determinati valori, determinate caratteristiche, è probabile che si incavolano nei nostri confronti, come il video che in questo momento, fra un po' vi faremo vedere. L'elettricità presa con dovuto rispetto, dicevo, non è provocante, noi abbiamo dappertutto, in macchina, in casa, nel cellulare, le batterie, ci circonda, ci coinvolge ed rispecchia la vita moderna sotto certi aspetti. Bene, ripeto, chiedo alla regia di mandare in onda questo video perché è molto significativo. Cose da non fare. Cosa abbiamo? Due trasformatori di tensione. Di una tensione abbastanza con dei numeri molto significativi, con delle tensioni molto significative. In questo momento il nostro amico ha appoggiato una resistenza elettrica, tipo quelle da stufa, però non è una resistenza a filamento. Ha unito i due trasformatori con il suo pezzo di cavo negativo, cioè di massa, che comunque ha unito, e poi, vedete, questo filo di rame unisce la parte dell'anima, cioè la parte centrale, la fase, diciamo il conduttore attivo, giusto per farci capire. Poi, naturalmente, vedete, la resistenza, i due capi della resistenza, è collegato ad un trasformatore, dalla vostra sinistra e alla vostra destra gli entra l'alimentazione che in questo momento ha inserito nella presa. La resistenza si sta scaldando, fin qui nulla di strano, o meglio, se non è per il tipo di connessione. Già questo sistema è fuori norma, cioè è già pericoloso per se stesso, perché sono in gioco delle correnti e tensioni elevatissime. Ora cosa ha fatto? Ha staccato l'alimentazione, l'ha rinserita e la resistenza si è accesa bene. Fin qui, ripeto, non è tutto a posto fino a un certo punto per gli addetti ai lavori e per gli esperti, ma anche gli esperti sanno che devono stare un po' attenti. Ora, quello che sta per fare il nostro pseudo esperto, notate che ha i guanti alle mani, questo vuol dire che lui vuole isolarsi, ma anche a tensione staccata ha tolto il filo, vedete? Ha tolto il filo centrale, l'anima centrale. Ma che strano, la resistenza funziona lo stesso. Ora, l'energia gli arriva lo stesso. In che modo? Per campo magnetico. I trasformatori trasformano la tensione per campo magnetico. Ma che cosa sta facendo? Sta facendo una cosa molto strana, pericolosissima. Ma cosa succede? Ecco che ha scoccato una scintilla, ha provocato un cortocircuito, una specie di scintilla. Questo è altamente pericoloso. La cosa è da non fare. Cosa vuol dire? Non è tutt'oro quello che luccica, nel senso che state molto attenti. L'elettricità è fondamentale, è molto bella, ci sono degli esperimenti, è molto carina e stuzzica anche l'intelletto, l'intelligenza, la fantasia di chi ne ha le basi, l'ABC dell'elettronica, soprattutto anche dell'ABC dell'elettricità. Non va preso, non va assolutamente fatto, va rispettato. Ci sono in gioco delle tensioni. L'elettricità, nel suo insieme, va presa con dovute maniere. Ci si spinge fino a un certo punto, oltre se non si ha le capacità, non si fa, è pericolosa. Va comunque rispettata. Quello che abbiamo appena visto è una di quelle cose, in sostanza, da non fare. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Cari amici ben ritrovati, proseguiamo con il nostro tema di trasmissione LTE, non trasmissione del programma, il nostro programma di LTE, trasmissione sull'LTE. Vorrei farvi notare alcuni oggetti che ho portato qui in studio, da farvi capire la differenza che c'è tra il vecchio sistema analogico e il nuovo sistema. Naturalmente, è tutti i problemi che possono nascere dopo che sarà entrata in funzione il sistema LTE. Questi sono filtri analogici, smontati da me, da una centrale, e sostituiti con questi due dispositivi. Questo sistema analogico, apparati analogici, sono filtri. Vedete, sono singoli filtri, ogni filtro era un canale dove corrispondeva a un singolo programma. Questi filtri si sono evoluti di banda, naturalmente hanno dei sistemi, erano i vecchi 7 mega. L'utente finale non interessa a questo tipo di problema se non gli addetti ai lavori, però per far capire che cosa. Prima si installavano questi. Naturalmente ci sono alcuni colleghi che preferiscono ancora questi tipi di pacchetti a filtri, però in questo caso io personalmente preferisco le centrali programmabili. Perché? Perché questo è il passaggio dopo, è l'evoluzione tecnologica del sistema digitale terrestre. In questo caso cosa c'è? Questa è una centrale elettronica digitale terrestre programmabile, ma anche questa. Questa è programmabile a livello manuale, non necessita nulla di più. Mentre questa è una centrale, sempre digitale terrestre programmabile, ma con il computer. Dov'è la differenza che c'è tra questo pacchetto, questi sistemi, questa tecnologia filtri e la tecnologia centrale? Che la tecnologia filtri, visto che il digitale terrestre è in continua evoluzione, se io fornesco al cliente una centrale digitale terrestre costituita da filtri, se viene a sostituire, se una frequenza, un programma, un canale, che viene trasmesso da una determinata frequenza, cambia quella frequenza, io devo sostituire il filtro. Il filtro non si può modificare, si sostituisce, per cui il filtro fine a se stesso ha un costo, ha un onere. Per cui ho anche un'aggiunta, cioè viene un nuovo canale, una nuova frequenza, devo andare in negozio, comprare il filtro e inserirlo di fianco. Bene, anche questo ha un onere. Io personalmente preferisco queste due tecnologie, perché? Perché all'interno di queste due centrali sono già inserite tutte le frequenze possibili, tutte le frequenze che il digitale terrestre trasmette, dal 21 al 69. Per cui io posso aggiungere, togliere, modificare sempre con la stessa centrale. Dov'è la differenza? La differenza sta nella preparazione tecnica professionale di noi addetti ai lavori. Partiamo da questa centrale. Io preferisco questa centrale. Queste due centrali hanno le stesse identiche caratteristiche, però dov'è la peculiarità? Che questa è una centrale che si programma manualmente. Questa è una centrale che si programma con il computer che, mentre questa centrale necessita di un piccolo aggiornamento tecnico, questa centrale ha bisogno di un software per programmarla, diciamo una preparazione tecnica superiore a questa centrale, cioè l'addetto ai lavori, il tecnico, l'antenista, deve avere una preparazione superiore a questa centrale perché deve entrare in un programma, in un software, deve conoscere il computer, deve conoscere tutta una serie di aspetti tecnici per programmare la centrale. Non è difficile, però deve avere una piccola preparazione. Mentre su questa è semplice. Hanno le stesse identiche caratteristiche, però programmazioni diverse. Perché io preferisco questa? Perché con questa si può fare cose che non si fanno. Con questa significa che io posso cambiare le frequenze, posso cambiare la potenza, posso cambiare i pacchetti. A livello tecnico posso fare molte cose. Perché lo spiego a voi utenti a casa? Perché se dovete fare dei lavori a livello personale, per chi abita in un condominio, per chi abita in una villetta privata, per conto proprio, naturalmente quando arriva il tecnico vi propone, per dire, una determinata apparecchiatura da installare all'interno di casa vostra, in questo caso un'informazione che voi avete in più da poter discuterne con il tecnico, non obbligare a discutere con il tecnico. In questo caso è molto semplice. Questa io ormai l'ho abbandonata, già questo tipo di sistema, nel 2010. Questo è il passaggio della nuova tecnologia analogica. Cosa succede? Che in questo caso si riesce a eliminare tutti gli eventuali programmi, tutti gli eventuali canali trasmessi dall'LTE, senza togliere nulla o aggiungere nulla. È una centrale molto versatile. Questa è semplice. Vi faccio notare un particolare. Questi aggegini sono filtri. Questi sono due tipi di filtri che sono filtri passabanda. Cosa vuol dire? Quando succederà che ci sarà l'accensione dei segnali LTE, il vostro tecnico vi dirà bisogna inserire dei filtri in centrale perché tolgono il disturbo e tutto il resto. Questi sono i filtri. Il vostro tecnico andrà in centrale, andrà o questo tipo di centrale, o questo tipo di centrale, o questa, inserirà questi dispositivi, questi componenti, che sono dei filtri. A cosa servono i filtri? Il filtro, la parola stessa, filtra e fa passare solo i canali che vengono desiderati, cioè quelli trasmessi solo ed esclusivamente dalla banda digitale terrestre dedicata ai TV, non ai tablet e non ai smartphone. Cioè, inserendo questi filtri all'interno delle centrali, e qui ci si mette l'antenna, l'ingresso, in questo caso, vengono tagliati fuori i canali dal 61 al 69. Non inserendo questo filtro, naturalmente il cavo dell'antenna posizionato all'interno degli ingressi portano dentro tutto lo sporco possibile. Nulla da togliere di una verifica in distribuzione, cioè se questo si parla di ricezione generale, poi la distribuzione, cioè i cavi in casa, le prese, i partitori, tutti gli accessori che compongono la ricezione digitale terrestre. Per cui questi sono i filtri che parlavamo poc'anzi, che eliminano le bande, i canali, scusatemi, il canale dell'LTE, non la banda. In questo caso, questi sono i due centrali. Vi faccio notare, a livello strumentale, l'effetto di questo filtro. Scusate, ecco, l'effetto di questo filtro. in questo caso, noi ci avviciniamo al nostro strumento. Interessante, perché in questo caso, eccolo qui, accendiamo il nostro strumento. Benissimo. In questo caso, noi stiamo guardando la TV. Vedete? Adesso io prelevo leggermente il segnale dalla TV, che è l'antenna generale che viene dal nostro tetto. La inserisco all'interno del mio strumento. Non metto nessun filtro in questa antenna. Ecco, io non metto nessun filtro in questa antenna, in questa antenna in ingresso. Questa è direttamente dall'antenna. Non metto nulla. Io vado direttamente al mio strumento, dove viverà la capacità di dire ma di che cosa è? Che cosa stiamo parlando? Eccolo qua. Inserendo il sistema TV. Ecco, vedete, cari amici? In questo caso, questo qui si chiama spettro. Leggermente. Che cos'è questo spettro? Questi qui sono i canali che vengono trasmessi dal digitale terrestre. Se voi notate, qui c'è scritto canale 62. Vedete, qui c'è scritto 62. Il 62 è riferito a questo, questa tipa di barretta in questo caso. Questa è una barretta che viene inserita all'interno dell'impianto. Ma se io, vedete, c'è questa, in sostanza, c'è questa piccola barretta che in teoria non dovrebbe esserci. Questa barretta qui non dovrebbe esserci. Se voi state bene attenti, anche questa, vedete, questa piccola barretta, queste piccole barre non devono esserci, sono disturbi. Questi sono piccoli disturbi. Se io in questo momento inserisco il mio filtro, adesso ho tolto l'antenna, vedete, non c'è più nulla. Se io inserisco il mio filtro, in questo caso, all'antenna, è un piccolo esempio per far capire a voi quello che succede in centrale. Se la regia, ecco, vedete, se voi andiamo a verificare, andiamo a toccare, siamo nel canale 60, ci spostiamo con il nostro sistema, eccolo qua, se andiamo leggermente sopra, eccolo qui, eccolo qui, siamo sul 62, vedete che non c'è più quella barra prima e non c'è più neanche questo? Allora, dal 60 al 69 è tutto pulito. Questi quadratini è tutto pulito, non c'è più nulla, non esiste nessun disturbo in rete, nessun disturbo via etere che possa creare problemi al vostro impianto alla vostra distribuzione. È un piccolo esempio per far capire quello che succede, per far capire a voi quello che succede all'interno del sistema digitale terrestre. Ora, non spaventatevi, se dovesse capitare che ci sono dei problemi, il vostro tecnico è in grado oppure te le volate qui in studio. Grazie di tutto di essere stati con noi e alla prossima. Chiarissimo come sempre il nostro esperto Giuseppe Valentino. Naturalmente vi ricordiamo che se avete delle richieste da porre a Giuseppe potrete come sempre farle scrivendo sulla nostra pagina Facebook. Questa è appunto l'ultima puntata di questa settimana. Vi auguriamo naturalmente un buon weekend ma vi aspettiamo lunedì con una nuova puntata di Chik Chat e vi anticipiamo dunque quello che sarà l'argomento di lunedì prossimo il salotto delle donne con Deborah e la sua amica Barbara ospite una poker player. Sì, avete capito una giocatrice di poker giovane, giovanissima che ha costruito la sua vita attorno a questo che se possiamo definirlo sport e poi una sorpresa per tutte le donne per tutte noi donne perché sarà ospite nel salotto delle donne mister Europa l'affascinante Marco Boscolo che appunto si è aggiudicato la fascia nel 2013 vi aspettiamo che appunto che appunto che appunto di